Dottore, 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 io c'ho un tic e dobbiamo fare l'attacca. Tic e tac? No, l'attacca al tic. Ehi, non ho un tic con l'attacca. Forse l'attacca al tic e poi l'attacca. Ma io non tengo l'attacca, forse mi faccio l'attacca. C'è un tic, ma faccio l'attacca, l'attacca, c'è un tic e tac. Non ho un tic, ma faccio l'attacca, c'è un tic e tac. Tic e tac, c'è un tic e tac, c'è un tic e tac. Tic e tac, c'è un tic e tac.